salve a tutti sono daniele marchese e faccio questo video presentazione per chi non mi conoscesse bene sono un ragazzo siciliano di catania bene l'obiettivo di questo canale diciamo sfornare dei video divertenti basati sul doppiaggio fatto da me magari di scene magari di non so magari di film di qualche cartone animato qualcosa per poi doppiarla col mio timbro e poi magari in futuro fare tipo degli perché no magari degli sketch qualcosa magari più divertente magari per far divertire chi mi segue chi mi seguirà va bene che dire ragazzi spero di dare il massimo iscrivetevi al mio canale che soprattutto magari è importante magari per magari per sostenermi magari ai prossimi video che farò sempre futuri e che dire mettete tanti bei mi piace tanti bei like sui video di youtube e che dire alla prossima un bacione